... Sapata Occhio al pallone filtrante Attenzione perché è pericoloso Ed entra in rete Gol! Bravo e fortunato qui a trovare il gol Pochi minuti dopo il suo ingresso L'allenatore sarà gongolando Per aver indovinato il cambio Fortunato E questo è un gol di pregevole fattura Grande potenza Grande gioia dei tanti tifosi presenti ...